Lo sciame sismico che sta interessando i comuni al confine tra Irpini e Sagno, oltre a produrre scosse di lieve entità avvertite nitidamente dalla popolazione, produce i primi effetti amministrativi. Così come il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, che questa mattina ha sospeso le attività didattiche, chiudendo anche alcuni uffici pubblici, rimarranno aperti gli uffici giudiziari del Tribunale della Procura della Repubblica di Benevento e l'Uni Sagno, in via precauzionale chiusi invece gli uffici dell'ente provincia. In egual modo, il primo cittadino di Altavilla Irpina, Mario Vanni, e quello di Santa Paolina, Rina Ricciardelli, hanno disposto a scopo precauzionale la chiusura immediata degli edifici scolastici di ogni ordine e grado. Insieme allo stop alle elezioni è stato avviato anche un monitoraggio delle strutture. Le scuole resteranno chiuse anche nella giornata di domani. Tra San Leucio c'è Paloni e l'epicentro, ma nel giro di pochi chilometri sono tanti i comuni irpini nei quali la scossa è stata avvertita. Tra questi Rocca Bascerana, Petruro, Torrioni, Pietrastornina, San Martino, Valle Caudina, Tufo, Sant'Angelo a Scala, Santa Paolina, Monte Fusco, Grottolella. Stamattina in diversi comuni i genitori, preoccupati, si sono recati a scuola per prelevare i bambini. Ci è sembrato per opportuno, d'intesa, la protezione civile nazionale per domani chiudere, d'intesa anche con il perfetto che ho ascoltato e sentito, tutti gli uffici pubblici della città di Benevento, comprese evidentemente anche le scuole, e domani con i vigili del fuoco, ringrazio anche loro, come tutti quelli che sono partecipanti, con i nostri uffici comunali, dal punto di vista tecnico, si andrà in tutti gli edifici, in tutte le scuole di pertinenza nostra, di quelle degli altri della provincia, per verificare lo stato di salute degli edifici a seguito di questo sciame che si è consumato in questo periodo. Io devo dire che questa cosa l'ho presa da una telefonata dell'agente scolastica che mi portava a conoscenza di questa ovviamente avvenuta della scossa di terremoto, tant'è vero, ho convocato subito un tavolo tecnico insieme all'evoluzione municipale, abbiamo avviato tutti i controlli da effettuare, ho fatto anche una chiamata ai vigili del fuoco, in modo tale che per avere, stiamo in attesa ovviamente di una verifica, in modo tale che posso dare subito, io per domani ho fatto la chiusura, ma per dopodomani stiamo verificando tutti gli esiti.